buongiorno e buon mercoledì allora pollicione se volete iscrivervi ringrazio attivate la campanina per ricevere notifiche e ringrazio di quelli che condividono commento ne sostengono questo canale oggi devo togliermi un rospo enorme non centrate niente voi no centra la mia parte politica centra la sinistra perché è vero io tra l'altro devo fare ringraziamenti radio uc che con giannucca entrato fare un commento in effetti che condivido totalmente cioè seguendo più o meno le linee che sono uscite attualmente dal dal governo non attivabili e arriveranno a prendere comunque l'era dc fino a novembre dicembre poi non passeranno tra i non occupabili ma tra gli occupabili a meno che non buchi nei 60 anni per cui è un altro discorso ma tutti quelli fra i 18 e 59 che non presentano le caratteristiche per poter entrare nella di e sono considerati non attivabili al lavoro che è diverso da non occupabili passeranno sotto sotto lo strumento di formazione lavoro ma manca ancora una circolare chiara e che precisa la situazione per questo io sono stato molto vaguato io fino a che non ho la circolare che dice che la situazione è questa ci vado coi piedi di piombo è al probabile che però succeda questo in fondo le priorità di questo governo attualmente sono andare a fare sceneggiate a pompei dicendo che è bello che c'è una nuova linea ferroviaria sì certo bellissimo considerato che in italia il ritardo medio dei treni si aggira sui 20 minuti quindi non sistemiamo i treni che ci sono già facciamo la solita passerella perché vogliamo far sapere che non ci occupiamo dei beni archeologici non si vede come viene occupate e poi c'è la questione comunque della della firma prona di fronte alla tunisia per cui si danno 150 milioni così a una persona che più che discutibile bene perché mi incazzo con la mia parte però perché se attualmente c'è quello io ho già detto un'altra volta ma stavolta veramente sono stanco sono stanco dei saviano sono stanco delle murgia sono stanco di tanta di questa gente qui sono stanco di una sinistra che ormai ha perso completamente la sua identità ha perso la sua strada e non gliene frega niente di recuperarla loro ormai hanno sposato letteralmente hanno sposato la versione da discount dei walk americani per fortuna non sono arrivati a quel livello di fanatismo che sta producendo dei danni mostruosi e appunto è arrivato al punto di far scoppiare la cosiddetta bolla ormai non se ne poteva più ed è esploso il vulcano tra l'altro non so se lo sapete magari una cosa che per voi rilevanti ma è partito lo sciopero di attori e autori di tutta hollywood parliamo di 160 mila persone e non pensate soltanto agli attori ricchi si parla anche degli attori che letteralmente prendono poco perché esiste un meccanismo in america un po diverso da quello da quello europeo in questione per farvi un banalissimo esempio in una squadra di football americano la star magari prende 30 40 50 100 milioni di stipendio ma il terzo quarterback il field goaler cioè quello che tira i calci piazzati così prendono generalmente il minimo cioè non è come per dire nel calcio l'ultima delle scarpe l'ultimo degli scarti delle riserve prende magari mezzo milione di euro di stipendio no la c'è proprio una una discesa e per farvi capire quanto discesa gli sceneggiatori cioè quelli che si fanno il mazzo per cercare di far diventare un film potabile che in questo periodo veramente un'impresa disperata prendono mediamente 70 mila dollari se considerate che il ceo della della casa del sorcio ha guadagnato finora nonostante i disastri che ha combinato è perché cioè se fosse stata un'azienda meno meno falaticizzata con quei marcelli che ha combinato lo buttavano fuori dal balcone 195 milioni di dollari incassato sta disgrazia umana è uscito grazie alla kk a distruggere tutto scusate il preamolo a farvi capire qual è la situazione se ci sono questi cialtroni al potere se c'è questa banda di scappati di casa c'è questo gruppo di disagiati la responsabilità ribadisco l'ho detto in un altro video ma adesso veramente siamo arrivati al colmo è nostra è nostra noi li abbiamo fatti andare lì noi ci siamo resi odiosi a tutti non siamo mai stati vicino la gente se ci siamo infoniati in noi nei salotti buoni per noi ormai la politica non è difendere il popolo difendere il proletario difendere gli ultimi difendere il senza tetto no per noi la priorità è andare a disquisire di massimi sistemi nelle case ricche davanti a radical cacic davanti all'aperitivo in attesa poi di potersi sedere a tavola e sbaffare mentre la gente fuori cavoli suoi perché lo stiamo parlando di massimi sistemi i massimi sistemi di diritti civili che ribadisco e non sono una cosa da sottovalutare ma non ci cavi niente se la gente a cui poi chiedi il voto tu la tratti a pesci in faccia ma perché dovrei votare pd quando se ti dico qui c'è un problema di salari e vabbè sì però mi raccomando devi votare per far per supportare la legge zana ma vaffanculo ma tu non aiuti me e pretendi che io aiuti te perché questa è l'attuale posizione delle pd il pd sta chiedendo e non da niente e la gente giustamente si è incazzata e questa incazzatura cosa ha finito ha finito per far morire una persona che essendo l'opposizione nel momento della crisi è passata come quella intonsa pulita santa e beatificata poiché adesso al governo combini solo casini è un dato di fatto ve l'ho detto i 150 milioni dati alla tunisia ma come ma lei non aveva detto che avrebbe fatto i blocchi avrebbe fermato tutto non ha fermato un cazzo le ha accesi sulla benzina le avrebbe sterilizzate sono ancora tutte lì anzi adesso la benzina è stata andata a aumentare vogliamo parlare dei bonus sull'energia e sono scomparsi le bollette tornano a salire lasciamo perdere quella cosa ridicola voglio specificare una cosa a un commento una tanto significa una volta sola non è ogni anno quella carta quando è vuota è vuota non non viene più ricaricata non ci sarà un'altra ricarica l'anno prossimo quella carta finita lì è finita quindi non fate conti su quanto ci metterà e comunque sarebbe una presa per il culo perché 382 euro diviso 365 giorni è un euro al giorno cosa è una presa per i fondelli in cui ti dicono che cosa comprare a livello del compro il pesce fresco non quello surgelato cioè se il pesce fresco se poi usato costa 6 pesce fresco ne costa 15 cioè come vedete la carta durerebbe ancora meno con questa mentalità del cazzo e dicevo noi abbiamo permesso che una banda di scappati di casa di incompetenti ignoranti salisse al potere perché da parte nostra per anni si è visto un totale distacco dalla gente comune non abbiamo mai fornito un vero un vero programma e guardate che il percorso è lungo abbiamo fatto da sinistra due coalizioni con prodi a capo c'è un democristiano un boiardo di stato uno che ma siamo perdere cosa ha combinato alle a limi stendiamoci un pietoso velo un boiardo di stato democristiano e abbiamo formato delle coalizioni che avevano uno solo scopo l'anti l'anti silvio poi di programma non avevano un cazzo e infatti totalmente immobili totalmente paralizzate come come limitazione che ne faceva grande grande guzzanti con quel mortadella che guarda e dice che prende esempio dai semafori e intanto e intanto non si dava niente alla gente e dopo cosa abbiamo messo una serie di segretari sempre più inconcludenti è inutile che adesso bersani per carità quello che dice anche senso ma quando era segretario lui vogliamo parlare della pettinata che si è preso dalla crimi da crimi e della lombardi che non sono propriamente a einstein faceva ridere a sentirlo quello che diceva non è stato cioè ha fatto miglior figura il grullo fiorentino con grillo di quanto ha fatto lui con crimi e la lombardi ed è sempre così e per dare l'ammazzata definitiva per far capire che a noi ormai dell'operaio non frega un cazzo perché abbiamo abbracciato il liberismo selvaggio il liberismo sfrenato che è una delle cause peggiori di distruzione dell'economia perché è veramente è la fame del denaro la rappresentazione più triste della fame del denaro cosa abbiamo fatto abbiamo richiamato letta dopo i disastri fatti da renzi che ricordiamocelo è quello che ha abolito l'articolo 18 non l'hanno abolito a destra l'ha abolito lui per rimettere insieme i cocci abbiamo chiarato abbiamo richiamato un catto comunista un uomo senza spina dorsale un uomo vacuo che vagheggia che straparla che non ha sostanza che non ha forza politica abbiamo richiamato quello ma non abbiamo un po di dignità ha fatto una valanga di danni sia si è tenuto dentro tutti i renziani quando si sapeva benissimo che il problema del pd erano i renziani lui non ne ha mandato via manco mezzo se li ha tenuti lì e cosa è successo che a settembre l'alleanza invece di farla con cinque stelle l'ha fatta con renze calenda salvo poi calenda sclerare tanto per cambiare perché ormai era un sociopatico in questo senso i renzi farsi solo gli affaracci su e manda tutti in vacca quindi il personale anza potenzialmente più solida che ti avrebbe dato diciamo una forza politica maggiore soprattutto il senato per allearti con degli scalzacani questo qui secondo voi era un leader questo qui manco pulire i cessi ce lo metti ma non nella parte del pulitore della pulitrice no no nella parte dello scopettone e dopo questo cosa arriviamo avere dopo questa perla cosa abbiamo avere una leader eletta dai non eletti perché non dai non tesserati anomalia del pd ma per carità va mi va anche bene che finora ha la sostanza della carta velina questa vuol fermare un treno con le mani ma non perché di là siano chissà che cosa perché un partito serio non avrebbe trovati di buchi in cui andare dentro perché di fatto di lanco la pasta ogni volta che aprono bocca fanno una figura di merda ma il pd non è capace ogni tanto ha dei guizzi come sulla storia dell'aumento dell'indennità dei capigruppo come l'ashline che va alla manifestazione del 17 giugno e poi il vuoto cioè non si vive di singoli guizzi serve un'azione solida preparata ma che abbiamo come riferimento perché alla gente stiamo sul cazzo diciamola tutta ma noi abbiamo eletto portato a simbo una volta cioè berlinguer c'era con tutti i suoi difetti soprattutto la stronzata della superiorità morale che non è mai esistita però c'era berlinguer e adesso chi sono i nostri referenti saviano un tutologo uno che dice una cosa giusta e spara cinque cazzate perché è un dato di fatto ma non bisogna toccarlo perché lui cioè ormai su quella cosa sulla questione di essere un eroe ci ha praticamente fatto il brand i ferragnez che sono cioè per uno di sinistra dovrebbe essere il simbolo del capitalismo dell'ipocrisia del pressapocchio e invece no sono diventati il simbolo della lotta ai diritti civili perché è ovvio che la ferragni che va a straparlare a Sanremo è una che capisce benissimo i problemi a me sinceramente vengono in mente i problemi delle famiglie che hanno figli e non arrivano alla fine del mese delle donne sole dei papà soli che non ci arrivano alla fine del mese che non ce la fanno devono conteggiare i soldi perché se no chissà cosa succede quello è combattere veramente la difficoltà quando hai degli milioni in cassa che cazzo vuoi straparlare ma mi sembra mai che abbia detto eh sì però questo mese abbiamo avuto la difficoltà ma sarei una faccia di lo sapete non fatemi dire la parola a provare a dire a voi che sono ho delle difficoltà ma mi vergognerei lo sapete perché non 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 esiste ecco non esiste paragonare una situazione in cui sei milionario a una situazione in cui veramente guadagni mille euro al mese magari due o tre figli non è accettabile quello però è diventato un simbolo della sinistra perché perché straparla di diritti civili e sottolineo straparla ho detto il dibattito tra Zan e Fedez era una roba da ricovero in psichiatria veramente quello là un fanatico demagogo spandone mente non è giusto demagogo letteralmente un bevuto di quella cultura americana tossica di cui vi ho parlato anche nel video su sando freedom e di lì sembrava il cagnolino che si metteva sulle alfa sud negli anni 70 quello che siccome la macchina andava faceva sempre andava sempre sul giù con la testa e poi abbiamo letto la murgia ho visto il video di Scanzi Scanzi ha avuto degli scazzi tremendi con la murgia però poi l'elogio ma che brava che coraggio così ma che coraggio che è che io sono coerente quando vi ho parlato di Silvio cosa vi ho detto sono stato coerente con la mia opinione come politico è stata una disgrazia per l'Italia non si può negare che è stato un grande imprenditore che è stata una figura importante nella storia italiana che non abbia fatto migliorare l'Italia anzi ma non è stato l'unico perché era tutta la cultura dell'Italia imbevuta di edonismo che ha portato a questa situazione cioè non ho fatto il coccodrillo non ne ho fatto l'elogio non ne ho cantato le disgrazie ma scusatemi io con quale coraggio dovrei per così dire togliami il cappello davanti a una persona che odia la mia gente odia il mio paese non ha mai peritato di evitare di insultarci odia il mio genere il mio genere biologico scrive dei libri che sono ributtanti in questo senso scrive un manuale in cui lei si intesta il diritto di decidere chi è fan del mascellone o no e io dovrei elogiare questa persona non me ne frega un beniamato cazzo però questa persona rappresenta il modo con cui la sinistra si pone di fronte agli altri arrogante spocchiosa convinta di avere tutte le verità di essere la portatrice o il portatore del verbo la gente non ce la fa più a sopportare queste persone prendiamoci le nostre colpe porca miseria perché siamo colpevoli siamo colpevoli che ha portato questa destra al potere perché abbiamo fatto sì che noi venissimo odiati dalla gente la gente non ci sopporta una volta la nostra forza erano le piazze stracolme adesso le piazze non le riempiamo neanche se la gente andiamo a pagarla talmente ci siamo odiosi quando è che siamo andati ultima volta in una fabbrica? quando è che siamo andati a parlare con gli operai? quando è che siamo andati a parlare nelle periferie e nelle case popolari? noi non ci facciamo mai vedere siamo bravi a discettare e poi andare a mangiare a case di baglioni ma veramente io di sinistra dovrei considerare i baglioni un cantante di sinistra? ma fatemi un piacere quello ha più silicone addosso dei tubi delle caldaie ma come cazzo faccio a considerare uno di sinistra quello lì? ma non prendiamoci per il culo poi scusatemi anche qua Scanzi che fa tutto il... te lo sai ricordate le parole che lui definisce? probabilmente voleva solo scherzare no non voleva scherzare voleva offendere perché se invece di chiamarsi Franco Battiato si fosse chiamato Franca Battiato le porcate che ha detto non avrebbe dette le parole che ha usato nei confronti delle bellissime e delle meravigliose canzoni di Battiato i cui testi sono pieni di significato se le ricorda queste cose? e adesso devo sentirmi da Scanzi con cui ha avuto degli scazzi mostruosi eh però che grande cosa io una cosa gli riconosco una cosa ha ragione la mogia a dire che è stato obbligato a sposarsi perché se no suo compagno non restava niente e io infatti continuo a pensare che bisognerebbe parificare i matrimoni con le coppie di fatto dallo questo punto di vista ha perfettamente ragione ha perfettamente ragione il matrimonio lo vedo come quello di Rousseau un contratto sociale deve essere anche una per così dire una scelta personale ma devono essere garantiti i diritti sia alle coppie di fatto che alle coppie non di fatto cioè a quelle sposate perché se con una persona ci convivi per vent'anni è tua moglie, è tuo marito, è quello che è perché il legame è fortissimo e profondo e quindi non puoi nel momento in cui uno dei due purtroppo non c'è più l'altro letteralmente abbandonato a se stesso ma detto questo, ribadisco lei non stava scherzando lei voleva umiliare la mia moglie di Battiato una persona che in quel momento non si poteva difendere e io adesso dovrei tanto per cambiarlo tutto ha scritto ancora con la Shoah che fortunatamente l'Accademia dell'Acustica l'ha rimbalzata dicendo che è una stronzata colossale non con questi termini ovviamente loro sono molto più raffinati che è una stronzata colossale ed è sostanzialmente copiata dalle menate dei pronomi che fanno in America e io dovrei, scusatemi provare qualche moto di simpatia di empatia no perché non ne ha avuto per gli altri scusatemi ma veramente se tu non hai pietà per gli altri ma perché devi chiedere la mia di pietà però noi ci vendiamo così noi alla gente appariamo così superiori, arroganti non orgogliosi non superbi attenzione non fate la confusione il peccato originale c'è un motivo per cui si chiama il peccato dell'orgoglio almeno per noi perché l'orgoglioso è uno che sa ha dei talenti ha delle capacità e questo lo spinge a pensarsi superiore a quello che è in effetti è il peccato di Lucifero se leggete il paradiso perduto di Milton la figura di Lucifero è una figura estremamente affascinante perché lui da una parte ha nostalgia e rimpianto di quello che era cioè il primo tra i primi e dall'altro il suo orgoglio lo spinge a cercare la rivalsa verso chi lo ha buttato giù semplicemente con un soffio cioè quella è la sua figura estremamente dicotomica in questo senso lui vorrebbe tornare ad essere quello che era ma il suo orgoglio glielo impedisce ma parliamo comunque del primo tra i primi l'arrogante spesso è una persona senza talento e senza qualità che vuol sembrare più di quello che è e noi ci vendiamo così alla gente non siamo più capaci di parlare con le persone non siamo più capaci di comprendere le necessità delle persone però dalle persone pretendiamo l'abbiamo fatto per anni per anni e alla fine la misura è colma ci è esplosa in faccia il PD ha ragione Bobby non scenderà mai sotto un certo livello perché ci sono tutte le clientele tutte le garantie tutti i meccanismi sotto banco che in questo senso tutelano formano una base solida ma quella base solida di fatto non ti permetterà mai di governare e infatti il PD se togliete il periodo che un prodi quante cazzo di volte ha vinto veramente le elezioni si è sempre andati a rimorchio di qualcuno anche a rimorchio di persone con cui non avevamo niente da spartire come Draghi o facendo alleanze turandosi il naso come coi 5 stelle perché fino al giorno prima volavano stracci da una parte e dall'altra però ci lamentiamo che la gente non ci sostiene che la gente non ci segue che la gente non capisce non è che la gente non capisce la gente vuole che tu li aiuti li aiuti nelle loro cose se tu cominciassi a ragionare sui diritti sociali e ti ponessi veramente in una posizione di lotta per i diritti sociali la gente ti seguirebbe ancora ma ormai la storiella del ogni tanto uscite il salario minimo già la cifra è bassa lasciamo perdere le stronzate da Fornero quella io non so ancora perché la chiamano in televisione cioè è una poveraccia e ha fatto più danni della grandine ma è bassa ma non è arrivata neanche da voi e voi avete osteggiato il salario minimo finché vi ha fatto comodo per tenervi buono alla CGL e ora non potete ammantarvi di questo merito perché non ce l'avete la gente lo sa che non è un merito vostro lo sa che la proposta è arrivata dai 5 Stelle di Conte e non da voi e ribadisco la cifra è troppo bassa quindi cosa avete fatto voi per il resto per i diritti sociali un cazzo potevate partire ai tempi di Orlando dal piano saraceno e su una cosa ragione Bob io sulla questione dei single ero totalmente in disaccordo a me il piano era al 90% buono ma sulla questione dei single per me era una stronzata lo dico chiaramente cioè come se il single non mangiasse ecco e considerata la denatalità italiana di single ce ne sono tanti però potevate partire da lì li avete messi in un cassetto avete varato il programma che è partito quando ormai il governo stava andando in vacanza ma in vacanza definitiva nel senso che c'erano le elezioni adesso comincia a funzionare sì grazie tante ci avete messo un anno a farlo funzionare doveva partire praticamente subito e poi cosa avete fatto per i poveri? l'unica vostra uscita è stata il reddito familiare il reddito alimentare che è una roba che farebbe farebbe schifo anche al peggior demagogo del pianeta una roba che fa sembrare lo strumento di formazione al lavoro un capolavoro del welfare che è da dove è uscito dal PD e poi ci lamentiamo la gente la gente ce l'ha con voi la gente non è che ce l'ha con voi è stufa di essere presa per il culo e l'avete così stufata da spingere a votare un governo di disgrazie umane di incapaci di incompetenti di scappati di casa complimenti ma complimenti davvero ragazzi noi siamo i responsabili dello sfascio attuale del paese perché quando potevamo non abbiamo mai fatto un cazzo e se qualcuno vi diceva qualcosa vi diceva cominciamo a ragionare sui diritti sociali cominciamo a ragionare sulla povertà cominciamo a ragionare sulle cose che toccano le persone e il resto vedete che viene di seguito voi proprio ve ne siete sbattuti le balle perché ormai il vostro riferimento sono le persone ricche sono le persone benestanti sono le persone che abitano in appartamenti che sembrano foreste che costano uno sproposito e che vanno a dare lezioni di etica agli altri portando i soldi in quel super macchinone o che straparlano le difficoltà della loro vita quando sono milionari questo siamo diventati noi e alla gente normale questa cosa fa schifo e chiudo su una cosa quando la murgia straparla ha scritto quella straparlata su decidere chi è fan del mascellone visto i torni visto le sue argomentazioni visto il modo con cui si pone io un consiglierimento glielo do sinceramente se vuole vedere un fan del mascellone si compra uno specchio ciao a tutti